Questa la giornata si è abbassata, è quasi finita, e qui laggiù è un mistero, un problema, è troppo grossa, che ho poi chissato quando sono iniziate queste. Io ho finito di mangiare da poco, l'ho messo qui sul balcone, ho visto questa cosa giù? Questo vulcano, qui sta finito? Questi sono i gassi vulcanici della violura di Riedi, della concaradina qua, nostri, della canura, della collina, della montagna, è un vulcano che si rettivella. Iniziamo in diretta questa seconda fase. Grazie. 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 Certo, questa sta nientando tutte le fumate messe insieme qua, che si sono ripiate qua. per record di record non è che scoppiamo stai ben ora scoppiassi tante volte grazie 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 a tutti. Questi se non sono incendi sono vulcani, delle due luna, però l'uscita dal secondo qua non mi sa tanto di incendio e poi il fumo sarebbe variato, non sarebbe stato sempre bianco. Questo è omogeneo dall'uscita fino ad adesso, non c'è stato mescolato i grigi di nero, è immagurato. Vabbè Riedi ci ha fregato, pensavamo di essere tanto forti noi, invece Riedi non ha buttato di più. Grazie. Questa è diventata un colosso, quello piccoletto. Questa è diventata un colosso. E' un po' di paura. sarò preso per un pifone c'è un po' di paura ecco non so l'idea di Roma come si senta terni pure la sotto ti sai come si sente questo è finito questi sono alternati probabilmente vabbè questi potessi durano due o tre ore chiudo qua io grazie